Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video Siamo qui con il maestro Siamo appena arrivato Ci ho piantato una cagata Ma una cagata pazzesca Sulla macchina? No Vabbè per ora siamo in stazione a Pavia E questi qui stanno facendo i biglietti Ehm Boh Mi dai l'accendino? Non bestemmiare che sennò devi tagliare Allora Dema Può inquadrare perfettamente il mio accendino E capisci che la giornata comincia di merda Perché non va con la puttana Arriviamo in questa stazione bruttissima Il mio accendino mi abbandona Comunque Detto tra noi Oggi Rimkaba alla conquista della brianza Perché noi ci proveremo fino in fondo Nessuno ci può fermare Poi abbiamo il maestro che è potente C'è C'è Vabbè Comunque Abbiamo Abbiamo finalmente deciso le Lo schieramento di partenza Quindi la mattina Io sarò al monotype Al torneo monotipo E Utilizzerò hero Il maestro Data la sua enorme skill Sarà il torneo delle 100 carte Dove utilizziamo Shabyss Ma che cazzo dici Al mattino devo fare Teller Hai ragione Il maestro fa Teller Usa La mattina fa il mega bunhead Con Satellar Monta fa il 100 carte Monta è morto E' morto Farà il 100 carte Varà il 100 carte con la bunhead Il 100 carte lo faccio io Shabyss Stavo tranquillizzando Ed Emma invece Utilizzerà Il mio burning abyss Nel magia e trappole Ovvero Burning abyss settato con sole e trappole Io sono bellissimo E ora vi mostriamo La kappa E' il corasau Che pulsa sulla kappa La kappa di corasau La kappa di corasau Allora Siamo appena scesi E allora Siamo ad arcore Ci stiamo dirigendo verso LPP Notare i giubbotini ignorante Tutti sotto in realtà abbiamo la divisa del kappa Non è vero Non è vero La maglietta di merda con la scritta sbagliata Io sotto in realtà ho pelle Siamo pronti Adesso andiamo a prescriverci Poi cazzeggeremo un po' E un po' di catarra Io assolutamente devo farmi convertire Una cazzo di farmgirl In italiano e in americano Cosa dobbiamo fare principalmente? Comprare le buste Master saluta Master Dobbiamo comprare le bustine Cosa ne pensi? Allora siamo arrivati a LPP Collecting Ci siamo già iscritti C'è anche Dema Gli altri sono in giro a fare cose Qui vedete c'è qualcuno già Non si vede un cazzo Mi devo levare Io non riesco a usare la telecamera Ok Adesso Tipo ci facciamo un giretto Andiamo a fare un paio di domande in giro Muzzo E' il canale di Youtube Ok Allora cosa ne pensi di questo torneo? Anche se non è ancora iniziato E' carino Può andare? Si è la prima volta che vengo Però sembra carino E voi tornerà Ottimo 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 Come pensate di piazzarvi voi? All'ultimo posto Bene Anche noi Quindi mi sa che ce la lottiamo Ce la giochiamo Ce la giochiamo Voi siete il film? Sarà un due Suicide Squad Ma che bello che è Ma che bello che è Ne ho recuperato uno Il maestro non so dove sia Sì vabbè ma anche se non fa il depresso Stavo dicendo a Piane che Sto prendendo la voglia di giocare No Perché perdere quei bambini è una merda E poi abbiamo la mascotte Che gioca a Forsofui Lui è venuto qua a giocare a Fog Ska gli ha tirato il pato Ho recuperato anche il maestro Nel frattempo che sembra un muletto Perché hai la telecamera? Fatti guardare C'è un muletto È il mio zaino Quello di Dima è il tuo Il porta borsa Dammi pure il mio zaino Mh 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 Mister 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 Bocasegzi 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 Bella narice del master Oh vieni qua Vieni qua subito Vieni qua immediatamente Vieni qua immediatamente Postati master Lascia posto a Siracusa E allora Siamo qui con uno molto brutto Bocasegzi Ovvero Jean Paul Gaultier a Siracusa Detto il bello Detto il Gaio Il maestoso E cosa ne... Cosa ne... Perché hai dato del coglione? Tu gli hai dato del coglione? Tu gli hai dato del coglione? Prima da lui Spiegaci Stai facendo il video? Perché sì Perché Siracusa un coglione? Bravo! Perché Siracusa un coglione? Perché Al foglio mi Siracusa ma vive a Bergamo Allora Esattamente 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 Mi fa piacere Perché ultimamente Vedevo un po' disperso il concetto Il concetto di fare team E fare veramente squadra E invece sto vedendo che Torna in auge questa cosa Ed è una cosa bellissima Cioè pensare alle quattro persone insieme Che si mettono lì Si sbattono per creare i mazzi Dedicati per un evento del genere Cioè anche solo il pensiero Cioè ripenso quando ero più giovane io E quindi facevo io parte delle squadre Che giocavano E sai passare la nottata A creare i mazzi E infatti più o meno così Che abbiamo fatto tutti Già credo che solo quella Sia la parte Cioè veramente bellissima Dell'esperienza Quella proprio da vivere insieme E creare qualcosa insieme Però arrivare qua E fare risultato Sicuramente la cilicina Sulla torna Il torneo sarà una figata Perché hai 12 squadre Vuol dire una figata E quindi secondo te Avviene una meraviglia Si è una figata Perfetto 13 è una figata Ringraziamo anche il boss Che deve scappare Sono montati Ci eravamo 13 giorni Qui c'è il SurePianetta Che fuma Qui abbiamo quest'uomo Con questa barba Molto forte e molto sexy Che sta comprando le carte al SurePianetta Che ha appena giocato contro di me Abbiamo appena finito il torneo Del Magnificent Monster Giusto? E io in pratica Se devi mangiare Prendi la pietra Spacchettita Prendi un sì Io in pratica Ho chiuso Io ho chiuso Il primo torneo 3 a 1 Con Hero Ho perso solo a Mirror Match Che ho beccato un Hero E tutti gli altri invece Erano Clifford Un paio erano Turbo Ma le ho vinte Contro Clifford Le ho vinte tutte quante Adesso bisogna aspettare E vedere gli altri Cosa stanno combinando Quindi per adesso Ci vediamo tra poco Zoomiamo sul maestro che è sexy Sul maestro che sta giocando Guardate che bello che è Guardate che bocca Che espressione Concentrata Che uomo Allora Sono riuscito a recuperare Dema Che sta mangiando Dema ha fatto il torneo Quello Magia e Trappole E hai chiuso? 3 a 1 Facciamo un piccolo report Primo turno becco BA Ok Mi fa schifo il Mirror Match Io l'ho già fatto il record Secondo turno becco Nel Crozzo di Galletti E vinco Vabbè Meno male che non è un BA Terzo turno becco BA che mi fa schifo Perdo perché gioco male Quarto turno becco BA Chiaramente Però vinco Quindi tutti i burning up Io e Dema abbiamo riscontrato un problema Ok Dema è biondo con gli occhi azzurri Guardate Quindi puramente di razza ariana Può essere che li abbia confusi Perché in effetti Perché ci hanno chiamati Kavazowski Che ha finito anche lui E quanto è chiuso? Ho chiuso 2-2 Facci un report Contro chi hai vinto Contro chi hai perso Veloce però Allora Primo turno becco Collins Ho perso Per il mazzo Cancro Che è Majestive Hand Si Con il supporto Monarca Veloce Secondo turno ho vinto contro Little Beast Si Terzo turno ho perso contro Shadow Noden E ultimo E quarto turno Ho vinto contro Ignite E la scurata è di 3 tifoni Vinto Io ci terrei a mostrare Che qui stanno facendo Un torneo molto più interessante Del nostro E stanno facendo Lo scopone Lo scopone chiamato Lo scopone D'assi Non lo so Briscola chiamata Si Oh zio Dai Hai partito? Si E quindi cosa devo dire? E siamo qui con quest'uomo Che mi ha appena fatto il culo con Si è un culo quadrato Con Shadowclown Perché non ho visto Side No vabbè è stato un bel match E adesso Non riesco a girare sta cosa Ok E adesso sto facendo il torneo Come si chiama? Sono lo so di te E non gioco da 4 mesi Magie e trappole Che bello Solo mostri magie o mostri trappole Ah si Magie e trappole Sto giocando a Burning Abyss Che in teoria è il mio mazzo buono C'è tipo l'unico che so usare Benvenuti E siamo qui con Boss Tutti in capo a Zaul Siamo tutti qua E questo è il capellone Manca ancora Manca il 100 carte Che stabilirà chi vince Siamo C'è il backbanger E il mercantile come che siamo lì Sì e qua abbiamo Noi Tutti gli altri A Cavazzaro Potrebbe Potremmo Se la gioca per il terzo posto Attenzione Adesso come vedete Un gran 24 Un gioco di giocato Spettacolare Un gran 24 di Dima 6 di Monta 8 mio E manca quello del maestro Che sarà un 2 Che sarà un 2 Quindi No All'1 purtroppo lui Siamo qui Siamo qui col Boss che oggi non sbusta però No E aspettiamo Momento a topic Ma no The winner The bang Il pistole ha vinto 94 punti First place Big Gates Big Gates E 20 punti Mercenari Attenzione Qua ho fatto un casino con i colori Ascolto Noi troviamo 87 punti Il secondo posto Secondo pace Chi c'è? Mercenari 2 Mercenari 2 Vabbè mercenari 2 S'arrivate il secondo posto Esatto Secondo me l'ho messo il primo Guarda Tu bello Con la ragione corretta Indy ragion per cui Indy ragion per cui Indy ragion per cui Il terzo posto Il terzo posto Il terzo posto E poi scendere gli hype Maestro Fai il mento a culo in diretta Maestro Fai il mento a culo in diretta No Bene Madonna che cosa ha il squalito Guarda Andiamo a premiare Ma porca troia Eccoci qui in stazione ad Arcore Con la tanto ambita medaglia di bronzo Che in realtà sembra d'oro E Tutta la crew Il terzo posto Vorrei sottolineare Quanto sono stato fondamentali Quei 24 punti Ovviamente Dema Oggi direi Il maestro Scula Se devo fare un commento personale Il maestro Scula Come l'anima All'interno del Torneo Del 100 carte 3 tifoni Ignite Di Lothè Dema Magistrale Decidiamo di puntare il jolly su di lui Fa 4-0 Perfetto Monta Riesci a mantenere l'equilibrio per tutto il torneo E mantenere la calpa E fare sempre risultati ottimi Dovevo mettere le mie Piane Compra le bustine del coso Il sottoscritto Anch'io Riesco a mantenere sempre la calma E batti Memoli Vabbè Memoli Falanga Un po' di giocatorini bravi oggi Ci è andato molto bene Ci è andata molto bene Allora Siamo qui quasi a casa Noi speriamo che questo breve Cosa sarà Non 30 minuti 35 Speriamo che questo breve video Di un'ora e mezza Vi sia piaciuto Vi invitiamo come sempre Di scrivervi A mettere mi piace alle nostre cose Ci vediamo con un prossimo video E mi raccomando Sempre Ciao Ciao Ciao